Non volevano lasciare il quartiere Roma perché dicono che si trovavano molto bene. Nove profughi africani questa mattina hanno dovuto lasciare l'albergo che li ospitava da diversi mesi ma è stato necessario un laborioso lavoro di mediazione da parte dei funzionari di prefettura e questura. In via Tibini erano presenti anche le forze dell'ordine pronte ad intervenire in caso di necessità ma i giovani profughi dopo aver opposto inizialmente resistenza hanno raccolto i loro effetti personali e sono stati accompagnati in altre strutture della città e della provincia in base a quanto prevede il piano di redistribuzione dei profughi sul territorio piacentino previsto dalla prefettura. Cinque sono stati accompagnati a Rivergaro, tre alla Corte Bossina, uno alla Caritas mentre un altro resta in città in quanto studente. Altri nove giovani stranieri erano stati trasferiti ieri da Piacenza a Rivergaro.